allora e qui adesso vengono fuori le magagne questo è poco forte la base per cui lo vedi che malaviene fuori questo specie di di zone malaticce perché non è ben stesa la preparazione sotto te ne accorgi mentre lavori tu devi fare tre o quattro quadri sbagliati per arrivare a capire come devi regolare le cose però io faccio scusa io sono 50 anni faccio faccio quadri sbagliati e 50 non 45 ok vedi fine del discorso per adesso adesso devi continuare no vai avanti con cautela e aggiungi i toni che devi aggiungere sistema di salvatore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti